erica ma cosa stai facendo? sto patinando stai patinando? si vorrei patinare ma veramente? si sai che oggi papino ha preso qualcosina per te? no non lo so sai cosa ti ha preso? no ma vorresti vedere? si tu chiudi gli occhi cosa c'è? sono i patini andiamo a provarli oggi? grazie mille guarda ho preso anche i ginocchieri e i gomitieri ok? si li dobbiamo mettere per la tua sicurezza ok? mettiamo il ginocchieri destro sono molto importante lo sai perché se cadi giù non ti fai male si guarda perché giù no mettiamo il sinistro come ti sembrano? bene ti piace il colore? si ok è duro se cadi giù non ti farai male dai metti anche il casco perché è molto importante anche il casco è molto importante si ce la fai da sola o ti aiuto? bravissimo così dai si va nel parco dai dobbiamo stringere di più andiamo pianino 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 si va di la non avanti non è come camminare devi capirla è per la prima volta con i pattini guarda guarda devi spostare il piede laterale e poi c'è l'altro così così vai avanti dai dai che sei brava ma sei bravissima anche con i piedi brava vuoi fare da sola? sei pronta? ma sei sicura dai che non sei pronta non sei ancora pronta andiamo a fare un giro di qua di la allora prova a capire come ascoltami prima devi imparare bene e dopo andrai da sola ok? guarda che sei bravissima devi tenere l'equilibrio oh oh prima caduta tutto bene? si ok tieniti allora prima devi pensare bene come devi fare con i piedini ok? ok pianino se senti che cadi giù vai nei ginocchi meglio così non ti fa male il sederino ok? alzati dammi la mannina proviamo prova insieme con la mamma dai Don't Si Oh 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 Pianino Allora faccio da sola allora si vabbè vabbè prova prova da sola io ho un disturbo faccio più pesi tutto bene? vi divertite tanto? cosa stai facendo? stai riposando ti riposi un po', sei stanca? il mio danno c'era un po' di acqua vuoi un po' di acqua? papino, un po' di acqua per favore i miei presenti naturali? naturali guarda prega poverina 87 sto sano che era caduta di nuovo di nuovo ma quante volte sei caduta? quante volte? ero vata al contrario e dove ero caduta pianino pianino non vi immaginate quante volte è caduta Erika mi ha imparato mi ha imparato hai imparato brava stai di qua ti aspetto papino guarda si si sono soluti bravissima Erika è bravissima perché non cade giù adesso ottimo guarda come primo giorno è stata bravissima arriva anche la Vanessa ciao 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 si fa una gara vai veloce e tu? pianino come una motobicicoletta dai salutiamo tutti ciao adesso Erika va a casa a fare un bel riposino perché poverina è stanchissima no si no si no 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 ciao ciao